Il programma di appuntamenti degli sport natatori paralimpici in città. Sabato 9 e domenica 10 luglio la piscina Scandone accoglierà due grandi eventi di nuoto paralimpico, il campionato italiano di società e campionati italiani assoluti estivi. Da giovedì 14 a domenica 17 luglio, sempre alla Scandone, sarà poi la volta della pallannuoto. Le 8 squadre paralimpiche di Serie A si contenderanno lo scudetto del campionato italiano. Adesso siamo reduciti al campionato del mondo con 64 medaglie vinte, facciamo adesso alla fine, questa settimana, il prossimo sabato e domenica faremo i campionati italiani di nuoto paralimpico e poi il prossimo giovedì, venerdì, sabato e domenica ci sarà la pallannuoto paralimpica che è il secondo anno in buona sostanza, che è rinata dopo una metamorfosi un pochino più lunga, c'era stata una facciata di finestra negli anni 80, poi si è spenta, adesso sono due anni che è ripartita alla grande con 8 squadre il campionato e verrà fatto quest'altro giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi Napoli, insomma, in qualche maniera diventa pedina inammovibile del nostro movimento. È una bellissima esperienza, abbiamo la Scandone rifatta completamente, quindi è una grandissima gioia, è un grandissimo onore per noi avere questa finestra così importante, una piscina così anche nuotabile da un punto di vista anche tecnico e poi sul territorio, ripeto, ci abbiamo Enzallocco, Vittorio Abede, insomma ci abbiamo personaggi che mandano avanti, sono le persone che in grande silenzio mandano avanti il nostro movimento. Abbiamo davvero dei campioni paralimpici che dobbiamo sostenere con iniziative del genere, quindi il Comune è stato ben contento di aprire nuovamente le porte della Scandone per un evento che sarà sicuramente di festa e soprattutto per capire che lo sport vuol dire davvero garantire la possibilità di farlo a tutti. Questo è il messaggio da lanciare, abbiamo tanti campioni che dobbiamo sempre sostenere. Da un punto di vista tecnico è una manifestazione molto molto ricca sia per la partecipazione diversa di atleti sia per quello che è il panorama delle competizioni. Per quanto riguarda la possibilità di organizzare qui a Napoli, oggi posso dire con orgoglio pure che Napoli si è tinta di tricolore dall'inizio dell'anno. Quest'anno, subito dopo il recupero delle attività legate chiaramente alla pandemia, siamo stati in grado di poter organizzare il collegiale premondiale, quindi la Nazionale di Nuoto è stata qui ospita a Napoli per otto giorni e ha preso la piscina a Scandone e ha fatto il collegiale di preparazione prima di partire per la Madeira. Abbiamo organizzato i campionati di nuoto assoluto e di società e infine il campionato italiano di pallannuoto, quindi capitale del Nudo Paralimpico e del Nudo Paralimpico di successo.